Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di gnocchetti sardi 200 grammi di ricotta 400 grammi di pomodori pelati 1 cipolla Prezzemolo Olio Sale e pepe Preparazione Far rosolare la cipolla affettata nell'olio Aggiungere i pelati e far cuocere per 10 minuti Aggiungere il prezzemolo tritato La ricotta e far amalgamare Cuocere gli gnocchetti al dente Condirli con la salsa preparata Cospargere di pepe e servire Il piatto è pronto Buon appetito!